Come va? Senti, abbiamo raggiunto il limite delle nostre possibilità di urne. Se vuoi saperne di più, vieni da me. Sapevi che avrei variato un po'? Era ora che mi mettessi alla prova. Vediamo come ti senti una volta in fondo. Qui ci sono delle curve pazzesche. Occhi aperti! Devi seguire meglio le traiettorie. Non è una passeggiata, eh? Te l'avevo detto. Le cose si sono complicate! Ho visto un atto che sta facendo di tutto per essere fermata. Accontentiamola. Modalità inseguimento attivata. Potete unirvi alla festa. Davvero notevole. Li hai seminati? Sono soddisfatto. Bella merda. La prossima volta dovrò bendarti, mi sa. Sono il tipo da rendersi. Ma a quanto pare gli altri sì. Che spreco! Ok, sembra non averti messo in difficoltà. Ma credo di avere qualcosa che può farlo. Che frae! Che frae! Questa è la cosa che avvita. La mia situazione è la mia situazione.